Ciao a tutti, siamo a Lake Maggiore siamo nel golf Borromeo dove ci sono le isole Borromeo è l'interno perché siamo alla fine di dicembre come potete vedere siamo in tempo di solito perché aspettiamo per l'avvento per admiare questa isola l'isola pescatori l'isola pescatori che sono il superiore dei pescatori tutti colorati illuminati in edizione speciale per il periodo di freddo non mi aspettavo per vedere e voi? Benvenuti a Tripilare like e suscritti ok, bene, andiamo prendiamo l'avvento in Verbagna Pallanza a 5.40 pm è l'ultimo avvento nel timetable winter questa volta è perfetta perché l'isola è illuminata da 5 pm da Verbagna prendiamo l'avvento direttamente a Stresa con questa tour possiamo vedere l'isola pescatori molto bene in Stresa non siamo fuori perché altrimenti non abbiamo l'avvento per tornare il costo del ticket da Verbagna Pallanza per la nostra tour è 10 euro per ogni adulto per tornare per tornare per tornare per tornare da Verbagna Pallanza ma potete prendere l'avvento in Baveno o Stresa ok ora è davvero il momento per ammire l'isola è davvero l'isola l'isola per niente per tornare la nostra è davvero la nostra l'isola la nostra è davvero per tornare l'isola per tornare l'isola per tornare che mi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.